Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un argomento interessante, come si fa all'interno dei fogli di calcolo a verificare la presenza delle formule e la loro coerenza. Allora noi utilizziamo LibreOffice Calc. Andiamo a vedere un foglio di calcolo semplicissimo. È il nostro mese, sei giorni lavorativi. Facciamo una zoom mattina indietro perché si vede tutto. Ecco sei giorni lavorativi, quattro settimane. Qui ci sono i subtotali giorno per giorno e qui c'è il totale dei totali. Iniziamo a vedere subito una cosa molto interessante. Se noi andiamo nel menu visualizza c'è l'opzione evidenzia valori. Se noi la clicchiamo vediamo che distingue il foglio di calcolo cromaticamente i dati normali dalle formule. Quindi in questa maniera è possibile immediatamente capire quale celle contengono una formula. Sono quelle verdi. Se noi li clicchiamo vediamo che nelle celle verdi c'è la somma, mentre le blu sono le celle dei dati normali. Egualmente vediamo che anche i messaggi di errore, vedete adesso qui non c'è, se noi qui ci mettiamo zero abbiamo creato finzionalmente un errore, vedete si crea un messaggio di errore e viene indicato perché abbiamo messo una divisione per zero, quindi divisione per zero. In particolare viene indicato da questo tasto qua, individuo errori, vedete? Se uno lo clicca c'è individuo errori. Se clicca rimuovi tracce sui precedenti, vediamo se ci da retta, sparisce, non ci da retta, va bene. Se noi clicchiamo per esempio una formula e clicchiamo tracce precedenti, vedete che ci indica che questa è la somma in verticale di questa giornata. Se clicchiamo qui noi all'interno del menu strumenti tracce precedenti, clicchiamo, vedete che ci indica che la somma di questa cella deriva dalla somma orizzontale, ma se clicchiamo ancora un'altra volta, vedete ci indica che tutti questi valori derivano verticalmente da questo tipo di somme. Quindi nel menu strumenti c'è individuo errori per capire dove c'è una cella con l'errore e poi c'è tracce precedenti, ovviamente il suo tasto corrispondente, rimuovi traccia. Se noi continuiamo a cliccare, vedete? Vengono tolte tutte le tracce, dovrebbe toglierci anche quella dell'errore, non ce la toglie, c'è qualche problema in questo strumento. La cosa interessante da notare è che se noi andiamo per esempio, dopo aver utilizzato questi strumenti, il layout e facciamo, possiamo andare anche in visualizza e facciamo anteprima di stampa, noi vediamo che questi strumenti, facciamo una zoomatina, vediamo che questi strumenti vengono stampati. D'accordo? Allora, vediamo che la nostra intanto area di stampa è scorretta perché arriva fino a giovedì. Allora, impariamo ancora anche come, diciamo, gestire l'area di stampa. Andiamo su formatta pagina, in formatta pagina, qui nella scheda pagina, intanto gli possiamo ridurre i margini, facciamo un centimetro i margini. E poi scriviamo bene, un attimo, che lo riscriviamo bene, eccolo qua. E poi possiamo dire sicuramente di allineare, quando abbiamo questo tipo di tabelle, la pagina orizzontalmente, di modo che entri all'interno della stampa. E poi possiamo dire che la tabella dentro la pagina possa essere allineata centralmente a livello orizzontale e centralmente a livello verticale. Vediamo un pochino, facciamo ok e vediamo che adesso, vedete, la nostra area di stampa comprende tutto. Quindi quando si, facciamo chiudente prima, quando si utilizzano questi strumenti che per qualche problema adesso non vuole togliere, bisogna stare attenti che questi strumenti qua, come traccia precedenti per esempio, vengono portati a livello di stampa. Quindi bisogna fare rimuovi traccia, ma in realtà dovrebbe toglierlo, ci siamo quasi arrivati, un attimo. Se uno pigia, 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 vediamo se ce lo toglie, ancora non ce lo toglie. Tentiamo di cliccare qua, ancora non ce lo toglie, ma comunque, perché questo strumento forse non funzionava. Ricordiamoci che questi tipi di strumenti vengono messi a stampa, ma la domanda è questa. Adesso all'interno del menu visualizza, vedete c'è evidenzia valori, ma se noi vogliamo vedere le formule invece del risultato, come si fa, vedete abbiamo il tasto mostra formula e al posto del risultato noi abbiamo proprio la formula uguale somma eccetera eccetera. Ma in questo caso noi andiamo a vedere, se andiamo nell'anteprima di stampa, la formula non viene stampata, quindi è soltanto una opzione che funziona a schermo. Se noi andiamo a vedere, vedete, le formule in realtà non vengono stampate. Quindi, mentre questi tasti qua che indicano la provenienza dei calcoli che abbiamo visto, vengono stampati, in realtà questo tasto qua che ci dice mostra formula non ci fa stampare la formula. Allora, se noi vogliamo stampare la formula, come si fa? Guardate, possiamo andare all'interno della scheda layout, possiamo andare in formatta pagina. Una cosa molto interessante, all'interno della scheda foglio, vedete, c'è questo segno di spunta. Se noi lo clicchiamo, formule, a questo punto, vedete, siamo all'interno dell'area stampa. Che cosa ci chiede questo pannello? Quali entità io stampo in fase di stampa? Se noi mettiamo il segno di spunta nella voce formule, possiamo adesso andare in visualizza e fare l'anteprima di stampa e vediamo che le formule non vengono solo viste a schermo, ma vedete, vengono anche stampate. Quindi se vi ritrovate con delle stampe del foglio di calcolo che al posto dei valori calcolati hanno la formula, tutto quello che bisogna fare è andare, possiamo andare in visualizza, possiamo andare anche in layout in formatta pagina. Nella scheda foglio, all'interno della sezione stampa, c'è questo segno di spunta e vengono tolte le formule. Un'altra cosa interessante, se il vostro foglio viene spezzettato, il vostro foglio di calcolo, in più pagine, potete anche cliccare adatta area di stampa e larghezza. Se è una serie di celle che può entrare all'interno di una pagina, mettete una pagina in larghezza, una pagina in altezza e viene ristretto e vi entra all'interno di una sola pagina di carta. Allora, rivediamo un attimo che cosa abbiamo visto. Molto interessante, all'interno del menu visualizza il tasto evidenzia valori, che ci distingue le celle che hanno una formula, che sono molto importanti, da quelle che non hanno formula. Quindi impariamo che i valori normali sono blu, le formule sono verdi, gli errori sono verdi, il tasto normale è allineato a sinistra, il resto è allineato a destra. Poi abbiamo il tasto mostra formula, che ci mostra temporaneamente le formule, ma non vengono stampate a meno che non andiamo in quel menu formatta pagina. Poi all'interno del menu strumenti abbiamo visto, se noi selezioniamo per esempio una formula, dopo aver visto che è verde, traccia i precedenti, se lo riclicco vedete che ci traccia tutti i meccanismi precedenti che producono il calcolo di questa formula e poi il rimuovi traccia precedenti ce lo toglie. Questa è la maniera migliore per capire come funziona un foglio di calcolo che non abbiamo fatto noi, che ci viene consegnato e soprattutto per capire laddove ci sono degli errori, per quale motivo questi errori si materializzano. Bene, il video finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, spero sia stato di vostra utilità, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.